buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video in cui apriamo insieme e speriamo anche di usare la box di soffi e toffi allora non ho ancora tolta dalla confezione di solito lo faccio prima ok ora la riconosciamo questa è la elfs box è la box mensile creativa di soffi e toffi ed è quella di dicembre non lo so non ho idea dobbiamo scoprirlo aprendola e niente appunto cominciamo a vedere cosa c'è qua dentro allora vediamo un po ma che cos'è questa meraviglia dovrei ricordarmelo no perché proprio non me lo ricordo cioè nel senso vi ricordate che io di solito seguendo la pagina vedo anche se con molto anticipo che cosa ci sarà nelle box e questa meraviglia proprio non l'ho mai vista ma siamo sicuri che è uno stampo se è uno stampo è davvero sottile no momento è da fare così quindi ok ragazzi dovrò guardare qualche video secondo me prima di poter capire come utilizzare bene sta cosa non lo so cioè sembra già pronta così sembra una console così proprio bene partiamo bene con l'idea molto chiare poi abbiamo questi due coloranti crystal pigment dye purple quindi viola e crystal pigment dye sapphire quindi color zaffiro blu insomma molto semplicemente poi abbiamo che carini ne ho tanti di questi brillantini ma questi sono dei colori molto accesi molto molto belli ma che carini questi sono sempre delle cane quindi cose affettate di pasta polimerica stile fimo e ci sono dei piccoli kirby ma è proprio kirby dei piccoli cellulari console arcobaleni e questi sembrano i nerini del buio quelli dei film di mia zackibo poi wow questo è un mix di glitter molto molto strani sono anche abbastanza grandi e ci sono anche delle paillettes dentro queste qui rotonde come sono strani che belle le foglie però molto bellini qua dentro non mancano le cose tipo perline simili ci sono queste qui che sembrano quelle dello slime però questi sono di plastica e queste che belline queste sembrano oddio queste sembrano orbitz come si chiamavano non ve lo ricordo e però sono di plastica anche queste poi qui abbiamo una confezione bella grande di resina uv una confezione di resina quella normale che è questa qui che a loro si asciuga in 24 ore era credo non c'è scritto si vabbè non c'è scritto comunque se non sbaglio con gli soffi in toffi asciugava in 24 ore cos'è volato via ha delle sono palline non perline forse sono per tipo questo giochino quasi questo qui è uno stampo per fare avete presente quei giochi che io di solito vedevo più che altro sui tappi delle confezioni di quei cosi per fare le bolle e sono dei labirinti in cui si mette la pallina e bisogna cercare di farla andare al centro ma bellissimo molto carino oh ma queste confezioni di glitter sembrano mi ricordano delle astronavi in realtà ma sono bellissimi a parte che questo mi sa che è un po' aperto perché si vede che ce ne sono un po' in giro ma guardate quanto sono iridescenti hanno dei riflessi arcobalino bellissimi davvero molto molto belli c'è addirittura un libricino stavolta dentro glitter blow out box e c'è scritto che non è un tema specifico e ci sono le cose nuove ah è quello lì era quella di dicembre qui ci sono delle foto di altre creazioni fatte con delle vecchie box se si acquistava la box premium che è quella che costa di più c'era anche uno stampo per fare un dado di quelli da 20 facce due colori di resina uv gel colorata e anche dei glitter più grandi poi vabbè qui ci sono le cose che ci sono nella box e di questi stampi qua ne potevano capitare due casuali e devo dire che mi è andata molto bene perché il cuore è la diciamo la switch anche se non so bene che console sia è veramente bello ah questi sono glow in the dark ma veramente allora ragazzi vogliamo provare a fare qualcosa io opterei per andare a utilizzare dove è finito questo stampo qui che non è esageratamente grande così possiamo farlo senza usare tanta resina uv e voglio usare l'uvia appunto perché se no non riuscite a vedere questo video oggi se lo uso la resina normale e appunto questo qui è il labirinto e come si farà bene a usare non lo so adesso vedremo cioè in realtà lo immagino come si fa allora ho pensato un attimo a come farlo e per essere più diciamo difficile come labirinto secondo me tutti questi muri chiamiamoli sarebbe il caso di farli trasparenti quindi farò uno strato o più di uno perché è un po' alta trasparente riempiendo bene i muri e poi solo sullo sfondo metterò del colore in questo modo diventerà colorata ma avrò i muri trasparenti così sembra un po' più difficile diciamo quindi cominciamo con la resina uv trasparente resina già aperta intanto così finisco le confezioni e visto che è trasparente posso metterla direttamente nello stampo non so quanto potrà venire bene perché questa resina ovviamente quella che sto usando adesso non è molto liquida quindi non è troppo comoda per lavori con dei dettagli dovrei cercare di ritrovare quella più liquida questa com'è non è specificato molto bene cosa sarà questa boh sto cercando di fare andare la resina in appunto nei muri chiamiamoli così perché non so bene come chiamarli ma più che altro non vedo niente quindi pardon devo avvicinarlo a me stessa vi faccio vedere come viene ok non so se si vede qualcosa per il momento non credo ma ho riempito tutti i lati prima di asciugarlo volevo mettere giusto nei bordi esterni qualche perlina per colorarlo un po' cosa ci potrei mettere direi che queste qua mi piacciono non lo so mi ricordano più un sentiero stile pacman che direi che con questo labirinto ci potrebbe stare ok aia è ustionante ho appena asciugato lo strato con tutte le perline molto bellino così adesso mettiamo lo strato colorato e dunque come pigmenti nella box ci sono solo questi che però cavolo la rendono veramente scura quindi pensavo di aggiungerci un po' di resino vi bianca oltre a quella trasparente altrimenti diventa così scuro che non si vede nulla di quello che abbiamo fatto uso il viola o il blu il viola allora ragazzi ho inserito la punta dello stuzzicadenti per aprire appunto l'inchiostro e ok la cosa divertente è che sono passati tipo 15 secondi e non dà assolutamente segno di voler venire via quindi bene per quanto questo effetto sia carino non è voluto e spero che con l'acetone tipo venga via anche perché se non l'ho sentito male mi è arrivato qualche schizzo anche in faccia aiuto che bella la mia nuova unghia con questo colore così particolare ma in realtà ragazzi il colore non è scuro per niente è semi trasparente senz'altro però non è scuro quindi penso che lo lascerò così evitiamo di usare oggetti che non erano nella box ci aggiungo un po di glitter che bello oh mamma mia aiuto sono tipo mezzi rovesciati guardate quanto sono belli mamma mia che meraviglia ok sto adorando questo colore secondo me però non è abbastanza anche se qui c'è uno strato davvero sottile da mettere aggiungiamoci un pelino di resina uv per essere sicura di averne abbastanza preferisco abbondare che averne troppo poca è un gran bel colore devo dire proprio soddisfattissima niente ragazzi ho aggiunto resina 40 volte ma è troppo poca devo farle comunque nell'altra sperando di azzeccare la dosi giusta di colore per farlo uguale ma qui sta continuando a far danni il colore vabbè ok secondo me è più intenso si infatti lo è vabbè verrà un po' più sfumato via ho bagnato il fazzoletto di silicone buonanotte di acetone vediamo se funziona eh meno male e meno male che questo è gel quindi con l'acetone non succede nulla ok allora vediamo un po' qui come fa a esserci la resina appiccicata cosa cavolo è successo va bene dopo la tolgo tiriamo fuori sembrarebbe asciutta l'ho asciugata per un sacco di tempo quanto è bello sto colore ragazzi ok perfetto è esattamente come lo volevo molto carino però qui non è perfettamente asciutto quindi lo asciugo ancora un pochino e dopo andiamo a completarlo allora ecco qua adesso dovrebbe andar bene sì adesso intanto ci devo mettere una pallina se ne usa una sola in questi giochini no? sì se no non avrebbe molto senso la mettiamo tipo al centro non so tanto poi si sposta e adesso dobbiamo chiuderlo come fosse un basil così dopo avremo il giochino eccetera così la pallina non uscirà non cadrà facendo non cade va bene ok ok non è normale che si sia appiccicata così però quindi adesso prenderò questo foglio di acetato che avevo comprato vari fogli su amazon devo ritagliare la forma del cuore ok eccolo qua se lo ritaglio e nel frattempo visto che non sono sicura che non sia più appiccicoso io continuo ad asciugarlo sotto la lampada ok ho ritagliato il cuore per quel che si vede perché appunto è trasparente adesso devo andarlo ad attaccare qua intorno e mi sono resa conto adesso che qui c'è come nei ma prima ho detto basil volevo dire shaker vabbè che qui c'è questo buchino per è la stessa cosa che c'è negli shaker per metterci dentro il liquido però scusate cioè io ho avuto da piccola questi giochini e non c'era niente dentro era proprio quello il bello che la pallina girava in mezzo all'aria non all'acqua o all'olio quindi perché vogliono farlo diventare un vero e proprio shaker no non c'è più gusto dopo a giocarci cioè insomma quindi aria quindi ora spalmo un pochino pochino di resina trasparente qui e ci attacco il cuore che ho perso dove ho messo il cuore aiuto ho perso il cuore ok ragazzi allora ecco qua lo strato che non fa più uscire la pallina adesso per renderlo un po' non riesco dai ti prego va bene non è il momento di giocarci Erika e adesso metto l'ultimo strato trasparente per uniformare tutto e poi è finito ragazzi a parte che lì si è spenta la luce ecco qua il risultato purtroppo si vede un pochino appunto l'attaccatura della come si chiama del foglio di acetato non capisco perché cioè tutti questi buchi e difetti che vedete sono sotto all'ultimo strato di resina e non capisco come mai ho fatto sto difetto ma a parte questo è molto carino e adesso ovviamente mi impegnerò ad arrivare al centro va bene non sono mai stata brava in questi giochini comunque sono davvero molto molto soddisfatta è davvero molto carino anche il colore è diventato molto bello e niente ragazzi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo ciao ciao